Chiedo scusa, professore, che anno era questo del Pozzo? Si ricorda del 91, quando fu inaugurato l'ufficio postale? 90 o 91, cioè l'ultimo anno credo. C'è un video di Telek che ho visto, mi sa che c'è anche la fotografica, sono due segretari, buon vestito. Sì, e questo video di Telek si è caricato su Youtube, perché il Preside Fucci fece un bel servizio con un'intervista a lei nell'ufficio postale, appunto. Se se la ricorda, Sindaco, fu un'intervista di Fucci molto approfondita. Sì, fu un lieto evento quello, e l'ufficio postale, insomma, solo paga si allargava, ma all'epoca, credo che era il 90, contava anche più di 4.000 abitanti. Se non sbaglio. Adesso invece siamo su circa 3.000, forse l'ufficio postale potrebbe rientrare sul Corso Cusani. Ma allora, praticamente, fu un rivoluzionario in tutto il paese, io lo trovai, ci sono sempre, praticamente, tutte le richieste che ho fatto. Perché poi, quando è venuta l'acqua, ho fatto tutto l'acqua rotta, ho venuto tutto l'acqua rotta, perché l'acqua poi saltava tutti l'acqua, l'acqua antico che non mi doveva dire. Tu lo ho fatto, in libertà, si è andata andra tous, sono i miti pezzi, gli è pezzi.